Ok, rispetto alla reaction che ho fatto, che era senza audio, dovrei aver sistemato il microfono. Vabbè, ciao a tutti i ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Miticotto. E vabbè, off camera non ho fatto niente, vabbè. Siamo qui per continuare. Ai. Il muretto e le mura difensive. Ovviamente sbagliando a piazzare i blocchi. Quanto è rilassante la musichetta di Minecraft. Dai, ancora! Vai, teniamo il canale da zucchero fuori. Perché alla fine gli affugati possono venire dal mare. Gli affugati sarebbero gli zombie, quelli di mare. Aspetta, abbasso la musica. Anzi, aspetta. Sì, sì, abbasso la musica. Sì, sì, abbasso la musica. Sì, abbasso la musica. Fatto. Qui c'è un'altra casetta. E vabbè, sono cresciute le canine da zucchero. Beh, io faccio l'amore anche a tornare a casa. Magari un giorno, per sbaglio, gli do fuoco, lo sapete. Non si gioca con gli accendini, però. E anche su Minecraft. E ho praticamente finito. Praticamente finito. Ma basta sotto e verso la porta. Lupi! Magliadini! Ci passi? No. Meglio, allora posso buildare così. No. Vabbè, poi, off camera. Mi dimenticherò di sicuro. Proverò ad abbellire un po' il tutto. Proverò a finire anche di costruirlo. Vabbè. Però noi non siamo qui per passare un episodio noiosissimo a costruire quello, la mura. Intanto facciamo un passaggio qui sotterraneo per la montagna. E per farlo proprio il mercante ambulante. No. No. No, ho dissacrato la sua tomba. Adesso i villagermi perseguitano. No, no, no. Una maledizione. Vabbè, facciamo finta di niente. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ma cos'è? Lì c'è un fiore, meno male Sto ancora ridendo Ok, ok Dovrebbe sentirsi la voce Ok, vabbè Vabbè Questa sarà come c'era la montagna del purgatorio Questa è la montagna della tomba Del cimitero Aspetta, aspetta Questa è Sparta Vabbè Facciamo la tomba Facciamo ieri Va bene qui Fiorellino Cosa sta succedendo? Grazie Ok, ti prego dimmi che... Ok, ora si risente l'audio Vabbè, che non mi chiediamo Vabbè, il corpo di... Vabbè Cos'è quella roba? Cos'è? Vabbè, troppa roba oggi Vabbè, terminiamo l'episodio qui Alla prossima ragazzi Iscrivetevi al canale, lasciate like Condividete il video con tutti Alla prossima, commentate, ciao